Tempi esponenziali sono tempi esponenziali anche nel lavoro di qualsiasi imprenditore, è banale dirlo però è così, il mondo cambia la velocità della luce e se tu stai fermo sei morto. Hanno scritto che nei prossimi vent'anni i cambiamenti saranno molto più importanti e molto più veloci di quelli che sono stati nei precedenti vent'anni e se pensiamo a cosa ci sono nei passati vent'anni dobbiamo aspettarci un mondo che probabilmente è anche difficile da immaginare. Quindi penso che la cosa più importante sia essere il più possibile flessibili, rimanere sempre molto curiosi, attenti alle novità e non essere rigidi e chiusi sulle modalità di fare le cose come si sono sempre fatte.